La parata più bella della stagione è stata una partita d'andata contro l'Ofanenghese, ho fatto una parata in uno contro uno, mantenendo il risultato di pareggio, era l'ultima partita di andata e era un buon punto anche perché l'Ofanenghese era davanti a noi, avevamo ancora ambizioni importanti che ci siamo portati fino alla fine, è stato un punto che ha dato morale per chiudere bene il campionato, era su Forbiti, la parata. La dedica per questo premio va alla mia fidanzata Federica che mi ha sempre accompagnato negli alti e bassi di questa stagione insieme ai miei genitori che sono il mio primo supporto e tutti i compagni, tutto lo staff del Breno perché questo premio va condiviso con loro, non sono 493 minuti di parata di serio ma lavoro collettivo di squadra e grossi rimpianti comunque però grazie per il premio a tutti quanti.